Aeree sono trascorse da quando gli dèi camminavano tra noi. Prima che la guerra ci dividesse per l'eternità. Non sei nato per fare il re. Tocca a me ora. Per anni, il nostro mondo è stato in pace. Ma ora c'è qualcosa. Lo sento. Forze oscure alleggiano su di noi. Ritirate! Trovate queste bestie ovunque esse siano. Il nostro mondo sta morendo. Non c'è più niente per cui tornare. Il nostro popolo per sopravvivere dovrà fare di questo posto casa. A qualunque costo. A qualunque costo. Se non saremo uniti, il nostro mondo perirà. Non è detto che questo accada. C'è qualcuno che può aiutarci. Forse c'è. Perché sei qui? Per salvare il mio popolo. Possiamo fidarci? Sono bestie. Vanno tutti distrutti. Ne sei sicuro? Proteggeremo il regno. Tu e io. Questo è suicidio. Non abbiamo scelta. Dobbiamo attaccare in forze. Qualunque cosa tu intenda fare, falla ora! Soltanto un Dio può salvarci. Vieni, demonio! Oggi, sull'urlo della speranza. Alla fine del nostro tempo, abbiamo deciso di credere in più lì negli altri. Oggi affronteremo i mostri che sono alle nostre porte. Oggi noi cancelleremo l'Apocalisse! Oggi noi cancelleremo l'Apocalisse! Oggi noi cancelleremo l'Apocalisse! Grazie.